Il weekend di Pasqua dello sport pesarese è stato aglietato dall'ulteriore conferma della prepotente ascesa tennistica di Luca Nardi. Il ventenne porta colori del tennis club Bartov trionfa al torneo challenger di Napoli. Dopo l'exploit planetario Indian West con la vittoria sul numero 1 Diokovic che ha portato Nardi nella top 100, ecco il successo di Napoli sul francese Herber che porta Nardi al numero 76 della classifica mondiale del ranking. A Napoli una vittoria in rimonta rimergendo dal 5-7 per poi imporsi 7-6-6-2. E ora sotto con Monte Carlo, Madrid e gli internazionali di Roma. Sorrisi dal tennis, pochi dagli altri sport, a cominciare dalla Vispesor che oggi ha iniziato la sua rivoluzione tecnica con il nuovo allenatore Roberto Stellone che ha diretto il suo primo allenamento al Benelli. Dopo l'esonero di venerdì di Mister Banchieri l'ex Frosinone Benevento prova a rianimare una vis terzultima ma con quattro gare più eventuali due dei play-out per credere ancora nella salvezza. Dalla Vis alla VL ancora più complicata la situazione per il basket pesarese. Nel sabato di Pasqua la squadra di Sacchetti ha perso combattendo a Treviso e giocandosi una chance forse decisiva nella lotta salvezza. Ora cinque incontri per invertire il proprio destino, ovvero recuperare i quattro punti che dividono da Varese su cui si è spostata la prospettiva salvezza. Si comincia domenica 7 aprile a mezzogiorno in terra sarda con Sassari. Di partite ne mancano invece tre alla fine della regular season dell'Ital Service Pesero di Calcio 5 che nel sabato di Pasqua si è inceppata in casa di Mantova affamata di punti salvezza. Sconfitta per 8-4 che non pregiudica un cammino play-off che però dovrà passare domenica dalla sfida al Palamegabox contro la dominatrice del torneo Olympus Roma. Palamegabox che sabato ha salutato la stagione della Megabox Vallefoglia e del suo campionato culminato con la prima volta i play-off. Le Tigri escono a testa alta lottando ma venendo sconfitte in tre set ai quarti di finale da Scandici seconda in classifica.